La storia del vino, la storia delle aziende del vino è fatta naturalmente con le grandi bottiglie, con le grandi bottiglie delle grandi annate, ma è fatta soprattutto dei personaggi che con le loro idee, con le loro azioni realizzano nel quotidiano questa storia. E qui a Ornellaia di personaggi celebri, importanti o che poi sono diventati importanti ne sono passati moltissimi. Sì è vero Antonio, certamente noi come azienda siamo molto giovani, abbiamo festeggiato da poco i 20 anni della nostra prima uscita di Ornellaia, ma in questi 20 anni abbiamo avuto la possibilità di prendere il meglio da tanti professionisti, tante persone che hanno messo al servizio di Ornellaia la loro interpretazione di questo territorio. All'inizio eri fra Lodovico Antinori, fondatore dell'azienda, e Andrei Celicef che è stato il primo enologo, ma soprattutto il primo che ha dato a Lodovico la capacità di interpretare al meglio questi terreni. Suo ha il merito per esempio di aver individuato nella collina del Masseto, in quelle argille, delle potenzialità che andavano ben oltre la possibilità di questo Merlot, di essere di aiuto nel taglio, nella bottiglia, nel blend di Ornellaia. Lui è stato che ha dato un po' il là in quel momento. Insieme per esempio ad altri tecnici importanti, interessanti. All'epoca per esempio dell'azione di Andrei Celicef e Ornellaia, i primi anni, Federico Staderini era il tecnico molto giovane, appena laureato, che ha condotto Ornellaia nei primi 5-6 anni di attività nella piantumazione delle vigne e della prima vinificazione, fino agli anni 90 circa. Infatti proprio le vigne, quindi la componente agronomica aziendale, è stata sempre tenuta in grande considerazione da Ornellaia. Senza dubbio, fin dall'inizio accanto ad un agronomo come Staderini, poi anche successivamente, come dicevo, c'è stato per esempio un grosso momento in cui sono intervenuti per esempio Andrea Paoletti, che è agronome, che lavora ancora oggi con noi, ma per esempio, sempre se vogliamo andare a cercare delle particolarità di Ornellaia, viene Danny Schuster, che è un neozelandese di origine tedesche, che negli anni 90, proprio nel metà degli anni 90, ha lavorato in Ornellaia, affiancando tutti i tecnici che sono succeduti in quel momento, nel dare delle direttive, o meglio dire, delle sue interpretazioni sulla capacità di gestire la fisiologia della pianta, quindi solo a livello agronomico in questo ambiente. Le vigne di Ornellaia sono nate spesso e volentieri in molte zone, grazie ai consigli di questo neozelandese, ma che aveva soprattutto una particolarità e che ha ancora oggi, visto che lavora ancora oggi con noi, di saper interpretare le risposte della pianta ai diversi terreni che oggi abbiamo a disposizione qui in azienda. I personaggi noti arrivati ad Ornellaia e i personaggi meno noti che poi noti lo sono diventato una volta andati via da questa tenuta. Sì, è chiaro che c'è stato sempre un supporto da parte di personaggi, André Cialicef, uno di questi, ma all'inizio degli anni 90 è arrivato Michel Roland come nostro consulente importante, perché Andrea ormai aveva all'epoca già più di 85 anni, quindi aveva qualche difficoltà a venire più spesso ad Ornellaia. Quindi arriva Michel Roland e insieme a Michel Roland arriva un altro giovane, che è appunto Thiborgal, un enologo ungherese, quindi già la sua partenza non era certo di quelle alla moda, ma che Rodovico aveva in qualche modo in quel momento individuato come potenziale prosecutore della politica di qualità di Andrei. E affiancando appunto Michel negli anni di sviluppo di Ornellaia, che sono a partire dai primi 90, quindi 90-91, fino al 97 compreso. In questi anni Thiborg sicuramente ha capacità di sviluppare, di consolidare le scelte fatte all'inizio dell'azienda, da parte di Andrea e di Rodovico Antinori. Successivamente, quando Thiborg comincia a diventare consulente a sua volta, arriva per esempio Andrea Giovannini, che oggi è un altro enologo giovane, anche lui che era altatesino, ma che aveva lavorato molto bene in alcune aziende, e arriva lui, che adesso è a Monsanto per dire, poi dopo Andrea Giovannini, arriviamo, mi metto anch'io nel mezzo, che all'epoca ero anch'io più giovane, arriviamo insieme a Thomas Duroux nel 2001 a gestire, io dal punto di vista agronomico e generale, lui dal punto di vista della cantina, a gestire appunto questi vini che avevano già consolidato nel frattempo un loro stile ben affermato. Sempre sotto la collaborazione, con la collaborazione effettiva sui blend, quindi una collaborazione che nasce proprio dalla capacità di Michel Roland di essere tecnicamente molto preparato nella fase di blend. Allora lì ci dà delle indicazioni che sono per noi preziosissime. Dal 2001 Thomas collabora con me nel lavorare in O'Nellaia per tre anni, quindi affrontiamo tre vendemme molto ben differenti, faccola 2001 stupenda, 2002 e 2003 ben più difficoltose. 2004 Thomas va a Chateau-Palmer, quindi anche lui cresce nella sua carriera, quindi oggi è, come dicono i francesi, Geraint di Chateau-Palmer. 2004 quindi è un anno un po' intermedio, in cui io stesso con la collaborazione di tutto lo staff di Anna Martens, che per esempio è una ragazza, una neologa che ha lavorato con noi, lavorò con noi insieme a Thomas, in quell'anno insieme collaboriamo attivamente a fare 2004, e poi dal 2005, inizio del 2005, arriva in O'Nellaia Axel Heinz, che anche lui viene da Bordeaux, anche se è tedesco di origine, e quindi prosegue nel suo lavoro in O'Nellaia, nella scia di quella che è un'azienda che ha fatto della presenza di molte persone, anche di stampo internazionale, il suo carattere, il suo DNA. Io sono forse uno dei pochi toscani che è presente in azienda, e quindi porto la toscanità, diciamo così, se vogliamo chiamarla così, nel lavoro che compiamo tutti i giorni, ma in realtà poi l'azienda è fatta da 120 persone, da tanti ragazzi giovani che lavorano con noi, e quindi siamo sicuramente molto orgogliosi di rappresentare questa forza viticola qui a Bolgheri, che è un posto stupendo per fare vino.